le elezioni internazionali per lei mamma che bello questo Yurchenko teso con un avvitamento e mezzo ampissimo anche lei grande tenuta del corpo, linea bellissima l'arrivo è abbondante, deve fare un passo in avanti per controllarlo ma quando l'arrivo è abbondante il passo, è vero che ha sempre la stessa penalità ma non si porta dietro penalità di esecuzione tecnica perché vuol dire che il salto era molto molto abbondante guarda che bello questo salto persino le punte tese perfettamente unite arriva, cerca di controllare, ha ancora tanta energia e fa un passo in avanti questo è un salto che prende una nota enorme vediamo il primo volteggio aspettiamo il risultato del primo volteggio della Gheorghieva sguardo determinatissimo che può insidiare il secondo posto almeno dell'indiana Pranati Nayak infatti 9-2 di esecuzione 13-80 su Karateso con un avvitamento anche qui benissimo bellissima questa reazione sì sì